Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a fare il jailbreak di iOS 12.4 sul mio iPhone 5S e per di più, come scritto in un commento, tenteremo anche il downgrade ad iOS 10.3.3 tramite file OTA che è il classico file di aggiornamento che vi compare in impostazioni quando si fa l'aggiornamento. Questo video sarà un tantino diverso perché farò tutto in live, non ci sarà nulla di pre-processato o cose del genere. Faremo tutto in live e vedremo se veramente riusciremo ad attivare appunto questa sorta di downgrade che adesso andremo a fare. Ho qui il mio PC e il mio iPhone 5S in carica. È entrato in bootloop perché è parecchio scarico, stranamente lo fa questo iPhone. Non so perché ma non mostra il logo della batteria scarica quando è parecchio scarico, cosa che non voglio capire. Ma vabbè, in ogni caso dovrebbe essersi acceso. Eccolo qui. Quindi direi di cominciare con il video. Prima di tutto io andrei a vedere che versione di iOS abbiamo su questo iPhone che è la cosa che mi preme di più. Perché non mi ricordo se c'è 12.4 o 12.3.1. In ogni caso il processo dovrebbe essere lo stesso identico. Quindi andiamo adesso a vedere. Abbiamo il nome, il numero di serie, bla 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 bla. Ecco qua. Versione di iOS miracolosamente, fortunatamente c'è 12.4. Quindi siamo finalmente pronti per fare questa pazzia. Bene, abbiamo il nostro iPhone, abbiamo il nostro PC. Cominciamo intanto col fare il jailbreak. Come fare? È semplicissimo. Io adesso qui ho un Mac ma il procedimento è lo stesso identico su Windows. Vi metterò il link in descrizione per scaricare le applicazioni che servono. In questo caso saranno Cydia Impactor, che è questa applicazione qua, che vado ad aprire subito. E il file del jailbreak, appunto, del jailbreak che serve per eseguire il jailbreak su questo iPhone. È un normale file IPA, cioè l'applicazione per iOS, quindi non sarà difficile fare tutto questo. Ora tutto quello che farò è attivare la Wi-Fi, perché per questo progetto serve una connessione a internet, e connettere il mio disco esterno dove si trova il file già scaricato per, appunto, il jailbreak, che vi farò vedere tra un attimo. Ed ecco qui il file del jailbreak che ci servirà. Io l'ho nominato S12.4, così sono sicuro di non sbagliarmi. Naturalmente è uscito l'aggiornamento da poco di S12.4.1, voi non fatelo assolutamente, altrimenti questo non si potrà fare. E qui ho già aperto Cydia Impactor. Ora andrò a collegare l'iPhone e vi farò vedere come fare il tutto. Ed eccoci qua, ho connesso l'iPhone. La prima cosa che dovrete fare è assicurarvi che il nome del vostro iPhone spunti qui su Cydia. E come vedete il mio è spuntato. E adesso possiamo cominciare con il jailbreak. Come fare con questa applicazione? È semplicissimo. Vi basta prendere questo file e trascinarlo qua sopra. Vi faccio vedere quello che succede se si fa. Ed eccoci qua. Una volta trascinato il file vi compare questo. E questo semplicemente vi chiede il vostro ID Apple. Il vostro ID Apple, la password. Dovrete semplicemente inserirgli. Una volta fatto questo il processo di jailbreak partirà senza problemi. Come possiamo vedere le scritte stanno continuando. Vi informo del fatto che alla fine del processo potrebbe comparire un errore. Ma di quell'errore non dovete avere paura perché è un errore fittizio. In realtà il processo sta continuando alla perfezione. E come vedete anche qui sta andando tutto bene. Adesso aspettiamo che finisca e poi passiamo direttamente all'iPhone. Eccoci qua. Si deve impattare al finito. Lo possiamo capire perché non c'è più nulla scritto sul display. Adesso tutto quello che devo fare è entrare sull'iPhone. E vediamo se a tutti gli effetti è comparsa l'applicazione che ci serve. Ebbene, ecco qua l'applicazione che ci serve. Questa sarà l'applicazione che dovremo utilizzare. Ed eccoci qua. Siamo pronti per eseguire il jailbreak. Prima di cominciare vi informo di una cosa. Il telefono potrebbe riavviarsi più volte senza che però compaia Cydia. Per far sì che il jailbreak si completi del tutto dovete far sì che questo numero, vediamo se siamo 0 su 31, deve arrivare a 31 su 31. Quindi non vi preoccupate se alla prima o alla seconda, anche la terza volta, non compare Cydia. Ogni volta vi basta entrare nell'applicazione e ricliccare sul tasto jailbreak. E quindi siamo pronti e via. Da questo momento è partito il processo di jailbreak. Vi aggiornerò non appena appunto accadrà quanto previsto. Come potete vedere l'iPhone si sta già riavviando. Ma come vi ho già detto in questo caso non è pronto appunto il jailbreak. Dovremmo cliccare ancora più volte finché appunto il jailbreak non sarà eseguito del tutto. E non vedrete Cydia a comparire. E pronto al quinto tentativo ho deciso di attuare un piccolo trucco. Andate sul centro di controllo, se succede anche a voi questa cosa, e mettete l'iPhone in modalità aereo. Così che appunto non ci siano disturbi o cose del genere. Io vado a farlo immediatamente. E ritentiamo con il settimo tentativo e vediamo che cosa succede. Eccoci qua. Siamo di nuovo arrivati a 18 su 31. Come vedete purtroppo è un processo abbastanza lungo il jailbreak. E come vi ho già detto bisogna avere pazienza. Ma in questo caso, se tutto va bene, dovremo riuscire a vedere il jailbreak completato. Ed eccoci qua. Non sono serviti altri tentativi. Quindi vi consiglio da subito di mettere l'iPhone in modalità aereo. Perché a quanto pare la Wi-Fi può interferire. Quindi adesso non ci resta che andare a vedere se Cydia è stata installata. E vediamo un po' che cosa succede. Naturalmente l'iPhone necessiterà di riavviarsi un'ultima volta. E poi potremo vedere il tutto. In questo caso non sarà un riavvio completo. Sarà il classico Respring, come lo chiamano tutti. Ora siamo pronti per andare a vedere se in effetti c'è Cydia. Ed eccola qua. Questa è l'applicazione che tutti noi cercavamo. Ora possiamo finalmente tentare il processo di downgrade da iOS 10. Quindi entriamo su Cydia. Questa volta disattivo la modalità aereo perché ci servirà internet in tutti i sensi. In tutto il suo splendore. Ecco a voi finalmente la schermata di Cydia. Ma non è ancora finita. Dobbiamo aspettare un attimo perché adesso vi farò vedere una cosa. Se come in questo caso non vi compare nessun messaggio. Tutto quello che dovrete fare è richiudere Cydia. Perché avremo bisogno di un aggiornamento importante. Per avere l'applicazione necessaria a tentare il downgrade. Quindi adesso riavvio Cydia e vediamo se compare il messaggio. Mi raccomando attendete un po' perché ci mette il suo tempo. Ed ecco il messaggio che stavo aspettando. Per evitare qualsiasi tipo di complicazione vi consiglio di fare aggiornamento completo. Così almeno avremo tutto il necessario. Non si sa mai cosa può succedere. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è cliccare su conferma e l'aggiornamento partirà da solo. Adesso dovrete semplicemente lasciar fare che Cydia si aggiorni. E poi torneremo subito per l'applicazione per il downgrade. Una volta che Cydia avrà finito il suo aggiornamento basterà rientrarci. E adesso dovremo avere tutta la nostra buona roba pronta per essere usata. Chiaramente Cydia dovrà ricaricare i dati quindi dovrete aspettare un altro po' di tempo come per prima quando abbiamo fatto l'aggiornamento. E siamo pronti. È stata velocissima ma aspettavo di meglio. Comunque andiamo su cerca. Una volta su cerca cerchiamo Fileza che si scrive semplicemente Filza. Eccolo qua. Questo risultato è quello che ci serve. Questa è l'applicazione che ci permetterà di andare a modificare il file di informazioni di iOS per poter eseguire il downgrade. Quindi immediatamente andiamo a scaricarla. E una volta che sarà pronta vi farò vedere appunto come fare il tutto nella speranza che si possa compierla. Siamo pronti adesso per andare ad aprire Fileza che come vedete si mostra subito nella schermata. Basta aprirla. E adesso cominceremo con il processo di downgrade. La prima cosa che dovete fare sarà appunto tornare indietro da tutte queste cartelle. Non dovremo avere nessuna opzione per tornare indietro. Dovremmo essere al menu principale semplicemente. Come vedete eccoci qua. La prima cosa che dovremo fare è andare nella cartella System. Poi no, naturalmente in Library. E qui andremo giù fino a trovare una cartella chiamata Core Service. Una volta dentro a questa cartella andiamo su Cerca. E qui lasciate pure fare questa cosa qua, non ci serve. Quello che dovremo fare adesso sarà cercare System V. Che sarà appunto la parola che ci aiuterà a trovare il nostro file. Eccolo qui, il file. Basta cliccarci sopra. E per poterlo modificare andiamo su Informazioni. Una volta qui noterete tutte queste varie appunto opzioni. Quelle che dovremo modificare noi saranno poche. Dovremmo modificare questa cosa chiamata Product Build Version. Semplicemente basta entrarci dentro. Questi numeri che vedrete qua sotto vanno sostituiti con un altro codice che adesso vi faccio vedere. E' importante che la A sia maiuscola, altrimenti la cosa non funzionerà. Adesso torniamo indietro. La prossima e ultima cosa che modificheremo sarà la Product Version, ovvero quella dove c'è scritta la propria versione di iOS. Andiamo a modificarla subito. Ed eccoci qua. Questa naturalmente andrà sostituita 12.4. In questo caso lo sostituiamo con 7.0.2. Una volta fatto questo ci assicuriamo che il numero sia corretto e adesso torniamo indietro. Quello che dobbiamo fare adesso è tornare ancora indietro. Cliccare su Salva, che è qua. E una volta salvato clicchiamo su Fatto. Adesso possiamo chiudere Filesa e riavviare il telefono. Siamo pronti adesso per riaccendere l'iPhone. E noteremo qualcosa di diverso rispetto a una normale accensione. Ecco ciò di cui stavo parlando. Come vedete è comparso una barra di stato, come se dovessimo fare un aggiornamento. Allora, nel caso voi aveste un codice nel vostro iPhone, vi comparirà prima appunto la schermata di sbloccare il codice. La schermata di sbloccare iPhone. Semplicemente voi mettete il codice e poi partirà senza problemi. Questa cosa che vedete. Aspettiamo che l'iPhone si accenda e vediamo che cosa succede. A questo punto se avete un codice vi consiglio di andare a rimuoverlo perché potrebbe solo darci fastidio in quello che dovremo fare successivamente. Ok, fatto questo vado su Impostazioni perché adesso devo andare a controllare un paio di cose. Quindi andiamo su Generali, Informazioni. E come vedete la versione di iOS che compare adesso è 7.0.2. In questo momento l'iPhone crede di essere su iOS 7.0.2. Quindi, se tutto va bene, andando su Aggiornamento Software dovremmo riuscire a vedere, forse, e dico solo forse, un aggiornamento ad iOS 10. Se vi comparo una cosa del genere è solo perché siete via Hotspot come me e dovrete connettervi a una Wi-Fi. Quindi risolvo il problema. E come possiamo vedere anche sotto Wi-Fi non c'è verso di ottenere l'aggiornamento che tutti noi speravamo. Quindi purtroppo su S12.4 non ce la possiamo fare. Mi dispiace, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma purtroppo non c'è verso. E con questo sono costretto a chiudere il video e nulla. Purtroppo non sempre si può avere tutto dalla vita. In questo caso terrò su S12.4 per il jailbreak e niente. Con questo vi saluto e al prossimo video. Grazie mille dei commenti, continuate così che il nostro canale va avanti. Ciao a tutti.